Campionato di Serie D, sulle immagini di Cavese-Messina analizziamo la domenica delle Salernitane nei dilettanti. Nel girone G, netta vittoria della Sornese che supera 3-0 il Civitavecchia, granata ora al secondo posto ad un punto dalla capolista Sora. Nel girone H invece Battipaiese sconfitta di misura a Matera. Nel raggruppamento I si conferma in betta la classifica alla Gelbison, l'11 di Ero ha sconfitto 2-1 il Ragusa dinanzi ai propri tifosi. Il Messina che stiamo vedendo in queste immagini ha vinto 1-0 a Cava di Tireni, nulla a Merti chiuso al pubblico. La Procavese di Pietro Pinto ha giocato bene, producendo diverse occasioni da rete, ma alla fine la maggiore esperienza dei siciliani ha fatto la differenza. Corona infatti ha deciso la partita nel secondo tempo sfruttando una disattenzione della retroguardia avversaria Procavese che avrebbe meritato il pari. Sfortunati i metelliani su un tiro di Ercolano finito sulla traversa.